E' inoltre intenzione del Governo stabilire una quarta area, oltre a quelle rosse, arancioni e gialla. Un'area bianca che potrà scattare solo con livelli epidemiologici molto bassi. Incidenza sotto i 50 casi settimanali ogni 100.000 abitanti, RT sotto 1 e indice di rischio basso. In questa area le limitazioni saranno relative alle regole fondamentali del distanziamento e dell'utilizzo delle mascherine. Ma iniziamo così, è difficile che questa area possa scattare nel breve, ma iniziamo a indicare un percorso di speranza per i mesi a venire. Con lo stesso spirito e intenzione del Governo in aria gialla e nel rispetto di tutte le misure di distanziamento, riaprire i musei come luogo simbolico della cultura del nostro Paese.